...della seconda delle due grandi motonavi ordinari ai cantieri italiani dalla Polonia. La nave che sarà adibita al servizio del nord atlantico e sarà dotata di rinforzi speciali per la navigazione fra i ghiacci, scende felicemente in mare alla presenza del sottosegretario alle comunicazioni, sua eccellenza Ostventuri, e dei sottosegretari al commercio e alle comunicazioni di Polonia. ... ... Grazie a tutti.